Mi chiamo Manuela Derme, sono di Roma, nata e cresciuta a Roma. Ho 57 anni e l'agenzia che me la presenta è La Cantera Management. Sono appassionata di recitazione cinematografica e la pratico dal 2018 frequentando diverse accademie e i vari bienni con l'esame finale. Frequento tuttora masterclass con cassi director e registi e oltre a frequentare i corsi storali perché la cosa mi appassiona, mi piace quindi la farò sempre e mi piace farla sia durante una formazione che sul set. Ho ottenuto un piccolo ruolo nel film Patagonia che è uscito nel 2023, film prodotto dalla Wildside e diretto dal maestro Simone Bozzelli e mi piace anche molto giocare a tennis e pratico l'uscita quando ero bambina che è il mio sport preferito e vi faccio vedere i miei profili. e il sinistro. Ecco, che direi, vi ringrazio del vostro ascolto e speriamo di vederci presto. Grazie.